Ursula von der Leyen a Beirut, la Presidente della Commissione Europea, annuncia un pacchetto di aiuti finanziari per il Libano da un miliardo di euro. Coinvolta in una sparatoria in un bar di Helsinki, un deputato è stato sospeso dal partito dei finlandesi ora al governo. Ursula von der Leyen ha annunciato un pacchetto di aiuti da un miliardo di euro a favore del Libano durante una visita nel paese, con l'intento di ridurre gli arrivi di migranti nell'Unione Europea, in particolare a Cipro. L'isola mediterranea, situata a meno di 200 chilometri dal Libano, ha visto infatti aumentare il numero di richiedenti asilo in arrivo dal paese medio orientale. La Presidente della Commissione Europea non ha tuttavia chiarito se l'erogazione dei fondi, che saranno disponibili fino al 2027, sarà legata al raggiungimento di tappe preordinarie. Riforme economiche o legate al rafforzamento del sistema educativo e sanitario potrebbero rappresentare alcune delle sfide per un paese che sta affrontando una crisi molteplice. Secondo l'alto commissariato ONU per i rifugiati, il Libano è il paese che ospita oggi il maggior numero dei rifugiati pro capite al mondo, 1,5 milioni di loro sono siriani e circa 200 mila palestinesi. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha anche segnalato un aumento delle tensioni tra rifugiati e cittadini libanesi. This is not the sustainable solution for the refugees. Once again, I think to become sustainable, the EU, after the European elections, should be able, with the new commission and the new leadership, to come up with the roadmap for the political process in Syria or else the refugees will keep on going and if Lebanon doesn't know how to manage this portfolio or will manage it in a very corrupt manner, we will continue on having the refugee problems once in a while and it's not going to disappear. La perdurante instabilità politica del Libano è stata accresciuta negli ultimi anni da una profonda crisi economica con un calo del PIL del 35,6% tra il 2019 e il 2021. Sia Bruxelles che Beirut stanno promuovendo anche rimpatri volontari in Siria, sempre con l'intento di ridurre il numero di arrivi di migranti nell'Unione Europea e in particolare sull'isola di Cipro. Non si fermano le proteste in Slovacchia dopo l'approvazione lo scorso 24 aprile della proposta di legge con cui il governo intende abolire l'emittente pubblica del paese, radio e televisione della Slovacchia e sostituirla con un nuovo ente, la Slovacchia Televisione e Radio. Il 2 maggio i migliaia sono scesi in piazza nella capitale Bratislava a sostegno dell'indipendenza dei media e contro la misura, considerata una mossa che porterebbe il governo ad avere il pieno controllo dei media. La Russia ha negato di aver utilizzato armi chimiche come metodo di guerra in Ucraina. Il Dipartimento di Stato statunitense ha accusato Mosca di aver utilizzato la cloropicrina, un agente soffocante vietato che induce irritazione ai polmoni, agli occhi e alla pelle, oltre a vomito, nausea e diarrea, affermando che non si è trattato di un incidente isolato. La Russia ha negato con forza le affermazioni, definendole prive di fondamento. Intanto la Russia continua a martellare l'Ucraina e i servizi di emergenza locali affermano che questa settimana Mosca ha lanciato un terzo attacco contro la città portuale meridionale di Odessa. 14 persone sono rimaste ferite. Lunedì 6 persone sono state uccise da un altro attacco missilistico e due giorni dopo 3 persone sono morte quando sono state prese di mira le infrastrutture civili. Anche sul fronte orientale le condizioni delle linee di difesa stanno peggiorando. Secondo il portavoce militare ucraino Nazar Voloshin, i difensori locali stanno resistendo alla spinta delle forze russe, più grandi e meglio equipaggiate rispetto a quelle di Kiev. Ma questo non basta a rallentare il Cremlino, che sta ammassando truppe nella regione di Donetsk per sfondare la linea difensiva ucraina e ha già conquistato altri due villaggi, Berdeciuv e Ocheretnia. Ci si aspetta ora che le truppe russe avanzino verso il fiume Vovka in direzione di una delle linee chiave di difesa di Kiev. Il deputato finlandese Timo Vornanen è stato espulso dal gruppo parlamentare del partito dei finlandesi per il suo coinvolgimento in una sparatoria a Helsinki la scorsa settimana. Per la leader del partito che è al governo e per il suo capogruppo in Parlamento, Gianni Macella, la decisione presa giovedì è stata unanime. Vornanen, un ex poliziotto al suo primo mandato, è sotto indagine, ma ha dichiarato che non si dimetterà. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che il diritto alla libertà di parola negli Stati Uniti deve essere protetto, ma non quando le proteste diventano violente. Noi non mettiamo a tacere le persone, ma non siamo nemmeno un paese senza legge, ha detto Biden dopo lo sgombero da parte della polizia californiana della protesta pro-Palestina in corso da giorni alla UCLA, durante il quale sono stati arrestati almeno 200 manifestanti. Le proteste contro la guerra di Israele nella striscia di Gaza, iniziate il 18 aprile alla Columbia University di New York, hanno ormai contagiato una sessantina di campus sparsi per gli Stati Uniti, da quelli privati dell'Ivy League a quelli statali. Secondo le ultime stime sono state arrestate più di 2000 persone. Manifestanti pro-Palestina hanno protestato presso la prestigiosa Università Parigina della Sorbona. I dimostranti hanno chiesto all'Università di bloccare i finanziamenti alle attività legate a Israele. La polizia ha agito rapidamente per allontanare i manifestanti. La scorsa settimana la polizia è entrata all'Università Sorbona di Parigi e ha sgomberato con forza un accampamento dopo poche ore dalla sua installazione, mentre centinaia di sostenitori si radunavano all'esterno. L'enorme vantaggio che l'estrema destra francese dovrebbe ottenere alle elezioni europee di giugno potrebbe ridisegnare la politica dell'Unione Europea, in quanto l'estrema destra potrebbe influenzare la formazione di qualsiasi nuova coalizione al Parlamento Europeo e indebolire le forze pro-Unione. Secondo un sondaggio esclusivo di Euronews, il Rassemblement National di estrema destra è al primo posto, mentre il partito del presidente francese Emmanuel Macron, Renaissance, è al secondo posto, seguito dal Partito Socialista. L'estrema destra francese è guidata da Jordan Bardella, del Rassemblement National, erede di Marine Le Pen. Il partito ha fatto più progressi ad aprile rispetto a marzo, a differenza del suo rivale, il partito Renaissance, che è ora al secondo posto, ma che sembra perdere ancora più terreno. Il sostegno al Partito Socialista non è cresciuto, ma tuttavia è ancora saldo, dopo anni di difficoltà politiche. L'affiliato del Partito Popolare Europeo, Le Republiquen, si colloca al quarto posto tra gli elettori francesi. La fazione della sinistra radicale, la France Insommie, migliora leggermente le sue aspettative elettorali, mentre i verdi francesi hanno perso terreno rispetto a marzo. L'estrema e radicale destra francese è composta da due partiti. Il più grande è il Rassemblement National, una componente del gruppo Identità e Democrazia, mentre il suo concorrente più piccolo è Reconquette, membro dei conservatori europei e dei riformisti guidati da Eric Zemmour, editorialista e autore ultranazionalista. La destra francese potrebbe dunque influenzare la composizione del nuovo Parlamento, soprattutto in termini di seggi e di orientamento politico. Per l'attuale grande coalizione, composta da socialdemocratici e dal Partito Popolare Europeo, di centrodestra e dai liberali, la vita potrebbe risultare difficile. Il partito Renaissance ha un ruolo di primo piano nella grande coalizione per il numero di seggi che detiene, ma un'eventuale battuta d'arresto a livello elettorale potrebbe far fallire l'alleanza politica della grande coalizione. I liberali francesi sembrano perdere alcuni dei loro voti in favore dei socialisti, che tuttavia stanno affrontando una prova di forza da parte della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. Buongiorno, sono Gibi di Roya Citoyenne. Sono parte di un'associazione che accuega i rifugiati che traversano la nostra vallée dopo aver franchito la frontiera italiana. E noi le facciamo parvenire a Nice per qu'il puisse demander l'asile. Se io ero, io mi arrangeriai per che l'argento che è versato a l'agente Frontex, che sicurisano con violenza e inhumanità le frontiere extensore dell'Europa, sia piuttosto dépensato per l'accueil coordonato e intelligente dei rifugiati. Se io sono reeleccato come membro dell'Europa, io vorrei mettere i miei obiettivi per quello che le persone aspettate di l'Europa. E questi sono due volte. Per esempio, per fare l'immagrazione legale. Per esempio, bisogna investire in assicurare le nostre bordi externa. Per esempio, le bordi, le fonte e una blocchia di nascita. La seconda parte è setting up a really competitivale economia, che significa che noi dobbiamo aumentare la burocrazia, noi dobbiamo aumentare la redtape, noi dobbiamo aumentare le tassi, noi dobbiamo aumentare un governo più piccolo, un piccolo europeo.